Perché venire al tuo spettacolo? Beh, perché prima la musicalità brasiliana è bellissima, c'è di tutto, c'è del jazz, c'è della tradizione delle storie brasiliane che raccontano la storia dell'uomo che parte dal nord-est, questa area molto secca che va a lavorare nel sud, c'è il lamento, c'è la sofferenza, c'è l'allegria, il carnevale, quindi la musica è già meravigliosa. Poi, questa volta, anche per me è un concerto nuovo, quindi sono molto felice e entusiasta di vedere che cosa sarà. Sarà come un'onda, proprio una sorpresa, perché siamo tre persone e tre artisti molto diversi fra di noi. Nasce da questo incontro tra me, brasiliana, poi Peppe Consomagno, questo grande percussionista italiano, con una forte esperienza in Brasile con musicisti brasiliani, che si autoconstruisce i suoi strumenti, che li trova nei suoi viaggi, e Rocco Papia, che è un musicista italiano, vive a Bologna, ma che abbiamo già collaborato tante volte e che anche lui ha un amore pazzesco per la musica brasiliana. Poi, questo connubio delle nostre nature musicali ha creato proprio un concerto particolare, come un'onda, che è un concerto che facciamo, lasciamo che parlino gli strumenti, la musica, e poi interferiamo noi. Questo spettacolo dove si potrà vedere? Come un'onda, sabato 10 febbraio, al Teatro Ferrara Off, alle ore 21, 9 di sera, che tra l'altro, faccio un parentesi, c'è tutto questo silenzio, rumori, questa dinamica, non poteva essere in un altro teatro che non fosse il Teatro Off, perciò abbiamo proprio proposto questo viaggio musicale lì. Quindi vi aspetto tutti, sarà un incontro anche fatto per voi o con voi, una alchimia.